le stalle le stalle non può essere no no ti porta dal che pulito le stalle le stalle le stalle le stalle Grazie a tutti. 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 Questo o quello lì? Ma questo qual è? Quello che mi ha fatto un altro giorno. Che si chiama? Non lo so. Ah. Come si chiama, Ander, questo? No, questo adesso dobbiamo giudirci. No. 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 Ok. 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 Occhio a non perdere franco eh, che non cambi traiettoria o'cchio a non perdere franco, che non perdere franco, che non perdere franco, che non perdere franco, mi sono impellinato quindi fate qualsiasi anno per un po' prendo l'altra non si sa come si chiama non si sa come si chiama vai vai vai